Buonasera a tutti i cuori di panna, benvenuti qui alla Corte di Borgonovo a Piacenza per la fine della prima puntata del Ciao Drag, selezione Emilia Romagna Toscana. E non poteva mancare che la nostra mitica presidentessa di giuria, Mariah Queen, che come sempre ogni anno porta una novità. L'anno scorso ci ha portato il suo libro e quest'anno ci porta il suo CD. Mariah, dici un po', ma queste canzoni come ti vengono? Ma sono tutte delle cover che io cerco di prendere spunto e poi trago delle mie parole e metto delle mie parole, delle mie emozioni nelle mie canzoni, che vivo tutti i giorni. E sono canzoni e testi bellissimi, vi invito ad acquistarlo il CD di io, Mariah Queen, sarò con alcune delle sue canzoni, non tutte, perché ne sono tante. Grazie e un arrivederci all'8 di dicembre. Ciao, baci, baci!